Il principe Harry è stato messo in guardia sul suo metodo di comunicazione con il principe William e il principe Carlo prima del suo libro di memorie, con un esperto reale che lo esortava ad aprire un dialogo con i due prima che fosse pubblicato. Il duca del Sussex tornerà presto in Gran Bretagna, questa volta con le telecamere al seguito, secondo quanto riportato. Si pensa che abbia intenzione di visitare come parte del suo mastodontico accordo con Netflix, che si ritiene valga 109 milioni di sterline. Harry ha attualmente un solo documentario in cantiere. Un film che seguirà i concorrenti degli Invictus. Games del prossimo anno all'AIA, nei Paesi Bassi. Il suo programma di riprese lo vedrà fare visita a sua nonna, la regina, dopo essere stato filmato mentre tiene un discorso al centro di riabilitazione dell'esercito nel Nottinghamshire. Potrebbe gettare le basi per aprire colloqui con suo padre e suo fratello, il principe Carlo e il principe William, da cui Harry si è allontanato negli ultimi mesi. Marlene Koenig, un'esperta reale, ha detto a Express.co.uk che il duca deve comunicare con i due prima del rilascio di quelle che dovrebbero essere le sue memorie bomba. Ha detto che se Harry credeva che rivelare più segreti nel suo libro fosse il modo giusto per comunicare con la sua famiglia, gli mancava il contesto della situazione. La Koenig ha dichiarato, mentre penso che Meghan Markle e Harry debbano fare ciò che vogliono, entrambe le parti devono comunicare. Se è così che comunica, scrivendo un libro, gli manca il contesto di cui ha bisogno per parlare con suo padre. Perché la vita è un cerchio, potrebbe succedere a lui la stessa cosa. Parla di essere un buon padre. Non sappiamo come reagirà a suo figlio anni dopo, potrebbe avere problemi. Harry sembra riaccendere brevemente i rapporti con William e Charles. Quando è tornato per il funerale di suo nonno, il principe Filippo, De San ha riferito di aver incontrato la coppia per due ore dopo la cerimonia. Poche settimane prima, Harry si era seduto, con la conduttrice di talk show statunitense Oprah Winfrey, lanciando diverse accuse ai membri anziani della famiglia reale, tra cui il fallimento della salute mentale e il razzismo di Meghan contro il loro primo figlio, Archie. Molti speravano che i colloqui avrebbero segnato un nuovo capitolo nella loro relazione.